Controlli congiunti fra forze dell'ordine italiana e slovene, l'ipotesi di richiedere al governo la sospensione di Schengen, le richieste di collaborazione ai paesi attraversati dalla rotta balcanica, anche una frecciata contro il PD. C'è questo e altro nelle intenzioni del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in tema sicurezza e contrasto all'immigrazione clandestina. La presa di posizione era già stata anticipata da tempo, l'incontro con il vicepremiere e ministro degli esteri Miro Cerar ha accelerato l'iter, confermato poi dallo stesso Fedriga sabato scorso. Col 1 luglio partiranno i controlli congiunti. Oggi abbiamo questi numeri perché finalmente i numeri esistono. Prima c'erano numeri più ampi che però non esistendo i numeri nessuno se ne accorgeva. Non a caso le presenze in Friuli Venezia Giulia di chi è entrato regolarmente e accolto nella nostra regione sono diminuiti del 20%. I controlli congiunti con le forze di polizia slovene spero serviranno. È ovvio che serve però un impegno di tutti i paesi della ruota balcanica per andare a spostare più in là la linea di crisi. Penso al confine croato. Devo anche dire che la Croazia quando aveva messo in campo interventi seri, i primi a schierarsi contro è stata l'Unione Europea. Quindi non è accettabile che ci sia un'Unione Europea che dica di fatto ai paesi di non controllare i confini. Quindi la domanda se sospendere Schengen sia possibile? È quello che ha fatto l'Austria con la Slovenia. Oggi Schengen è sospeso tra Austria e Slovenia. Ovviamente non è la nostra ambizione. Però è chiaro che se non c'è un impegno da parte di tutti i paesi non abbiamo alternative. Io ho sempre detto che quando non vengono rispettate le regole purtroppo si alzano i muri. Io voglio che i muri non si alzino e quindi chiedo che le regole tutti le rispettino. Io ho fatto presente al Governo la posizione di Regione Friuli, Venezia e Giulia. Hanno ben conscio l'allarme che si sta creando in questa rotta non per i numeri attuali che possono infastidire ma non sono pericolosi ma per tutto il flusso che stiamo monitorando e le informazioni che abbiamo che tutta la rotta balcanica rischia di diventare molto consistente. Infine la critica a distanza con l'ex presidente della Regione Deborah Seracchiani. La sinistra è quella che ha prodotto l'invasione del nostro paese anche in Friuli, Venezia e Giulia. Noi in un anno abbiamo diminuito del 20%, loro ogni anno aumentavano le presenze. Io ho fatto la battuta, la Seracchiani che insegna come si riuscisse in immigrazione, come dice anche lo squartatore che insegna come salvare le vite umane, perché di questo si tratta. È surreale come chi ha contribuito al disastro oggi quando è l'opposizione insegna come si risolve il disastro che lei ha creato. Siamo al limite della commedia anni 80. Grazie a tutti.